Roberto Pusinelli, Dender Training, bentornato. Continuiamo con quello che è la nostra serie dedicata alla dieta nel carrello. Oggi sei stato al supermercato, abbiamo visto dai tuoi social. Sì, oggi sono stato al supermercato proprio per vedere un po' quelli che sono appunto i claim nutrizionali che usano i produttori per attirare un po' l'attenzione. E girando, devo dire ne ho trovati tantissimi, mi sono divertito un sacco oggi, quindi ho trovato però quelli un po' più classici che appunto vediamo tutti i giorni. La volta scorsa abbiamo parlato di light, questa volta ho detto ok, cosa è legato al light? Lo 0% di grassi, quindi ce l'avevo sulla punta della lingua guarda. La parte di diciamo di demonizzare un pochettino i grassi come nutrienti, in realtà è qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione perché ad esempio oggi ho trovato un sacco di soprattutto yogurt con scritto 0% di grassi, 0 grassi, senza grassi, ma fanno veramente bene effettivamente. Allora ci sono dei pro e dei contro, nel senso che alcuni di questi yogurt ad esempio hanno 0 grassi e hanno anche un quantitativo di zuccheri molto basso perché non ci sono zuccheri aggiunti. La maggior parte di questi yogurt però hanno un grande quantitativo di zuccheri aggiunti. Tieni presente che rispetto a noi yogurt intero, normale, classico, senza appunto zuccheri aggiunti, che ha circa 70 chilocalorie, lo stesso yogurt, quindi un vasetto da 125 chilocalorie, con 0 grassi ha comunque 70 chilocalorie. Com'è possibile? Eh appunto, per tutti i zuccheri che ci cacciano dentro. Esatto, il problema sono gli zuccheri, il problema sono gli zuccheri e sono tanti zuccheri perché in 125 grammi di zuccheri sono, ho trovato dai 13 ai 17 grammi di zucchero, che vuol dire... 125 grammi di yogurt. Di yogurt, scusami, di yogurt. Ho trovato appunto tra i 13 ai 17 grammi pieno di zucchero e 17 grammi di zucchero sono quasi quattro zollette di zucchero, quindi il quantitativo è veramente importante. Quindi è per quello che c'è un aumento del quantitativo calorico in questi yogurt proprio perché c'è un'aggiunta di zucchero veramente importante. Che cosa succede qua? Qua dobbiamo cercare eventualmente di capire se fanno meglio gli zuccheri o fanno meglio i grassi. Prima di tutto noi dobbiamo sapere che l'OMS dice che il nostro quantitativo di zuccheri aggiunti durante la giornata dovrebbe essere massimo intorno al 10% del nostro fabbisogno giornaliero. E questo vuol dire che deve essere massimo, massimo 50 grammi, ok? Se già da un vasetto di yogurt ne assumiamo quasi 20, capite bene che... 33% ce lo siamo già giocato. Esatto, ed è una cosa molto semplice raggiungere questo 10% perché gli zuccheri aggiunti sono considerati anche, ad esempio, gli zuccheri nelle bevande zuccherate, piuttosto che nel miele, gli sciroppi, i succhi di frutta, quindi anche il succo di frutta è considerato, lo zucchero che è contenuto nel succo di frutta è considerato zucchero aggiunto, anche il succo di frutta al 100%. Quindi... Senza che ci sono la frutta, piuttosto che il pane, la pasta... Esatto, quello hanno... abbiamo lì però abbiamo un discorso diverso perché quelli non sono zuccheri aggiunti, quindi lì non abbiamo un quantitativo di zucchero vero e proprio saccarosio che viene aggiunto o comunque il fruttosio che vengono aggiunti all'interno del prodotto. Sono già contenuti, ad esempio, nel cereale, ma quelli sono una parte di amidi, c'è una parte di altri zuccheri, quindi non sono così problematici come appunto il saccarosio, il fruttosio, comunque tutti gli zuccheri, il glucosio che vengono assorbiti molto molto rapidamente. Quindi diciamo che il succo di questa puntata, il messaggio che voglio lasciare un po' è scegliamo davvero anche uno yogurt magro, che va benissimo, cerchiamo di controllare che non abbia zuccheri aggiunti, quindi finché ha 3, 4, 5 grammi di zuccheri e non ci sono zuccheri aggiunti, va benissimo. E quello che possiamo fare, ad esempio, per addolcirlo magari è frullare un po' di frutta. Quello ci permette di avere il gusto dolce, ci permette però di non avere un eccesso di zuccheri. Anche un gusto personalizzato a questo punto. Esatto, quindi possiamo scegliere anche di personalizzare il nostro yogurt. Beh, anche questo appunto era un aspetto importante da sviscerare, quello dello zero grassi che è sempre comunque qualcosa di molto allettante su chi vuole perdere peso e insomma poi dopo si entra in una spirale invece un po' diversa perché poi il consumo energetico comunque non avviene e quindi il grasso comunque non lo assorbo ma neanche lo brucio. Esatto e poi ricordiamo che comunque i grassi sono fondamentali, non dobbiamo demonizzarli perché sono fondamentali ad esempio per la struttura delle nostre cellule. Tra l'altro riguardando un po' i vecchi articoli che abbiamo sul blog ho ritrovato un articolo che parla proprio dei grassi, magari poi te lo mando Fabio e lo puoi postare comunque anche sulla tua pagina, io lo posto sulla mia pagina Undertraining. Perfetto Roby, come sempre eccellente e ci diamo appuntamento settimana prossima. Perfetto Fabio, allora settimana prossima un saluto a tutti e mi raccomando sempre come Metallica. Ciao Roby, grazie, buona serata. Ciao, buona serata. Grazie a Roberto Cusinelli di Undertraining, se andate su undertraining.ch slash blog ovviamente trovate tutti gli articoli pubblicati per cui potete fare una ricerca di quello che più vi può interessare e poi sui social di Undertraining anche sui nostri troverete quello appunto dedicato all'argomento di questa sera.